Fratelli nel Signore, oggi voglio parlarvi della remissione dei peccati. E' una cosa molto importante, sia per quanto riguarda la salvezza, perché nel momento in cui un uomo viene salvato, gli vengono perdonati, rimessi tutti i peccati. Ma è importante anche per quanto riguarda i credenti, perché purtroppo essendo presente in noi una natura che ancora ci fa sbagliare, una natura nella carne, una natura peccaminosa che abita dentro di noi, nel momento in cui ci lasciamo andare qualche volta, ecco che commettiamo il peccato. E quindi anche quello va rimesso, che quando il Signore ci ha salvati, ci sono stati rimessi i peccati fino al momento in cui il Signore ci ha salvato. Poi di volta in volta, ogni volta che ci sentiamo turbati, abbiamo coscienza di aver commesso un peccato, ecco che dobbiamo tornare al Signore e chiedergli perdono, e affinché egli ci purifichi da ogni peccato. Ma cosa è il peccato? Cominciamo appunto da individuare che cosa è il peccato e quali sono le sue conseguenze nell'animo umano. L'Apostolo Giovanni, che ha scritto la sua prima epistola, ci dà questa definizione, questa definizione al capitolo 3, versetto 4 e 5. Giovanni descrive così cos'è il peccato. Chi fa il peccato commette una violazione della legge. E il peccato è la violazione della legge. Praticamente cosa succede? Succede che c'è una legge, c'è una volontà di Dio, la legge e i comandamenti di Dio che ci fanno conoscere cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Cosa è gradito a Dio e cosa non lo è attraverso la parola, attraverso i Suoi comandamenti, attraverso il discernimento che Dio ci dà. Ecco, quando noi sappiamo, quando Dio dà dei comandamenti, ci fa conoscere la sua volontà e noi infrangiamo, trasgrediamo questi comandamenti, noi commettiamo un peccato. Cosa succede? Succede che in quel momento viene prodotto in noi, diciamo, una morte spirituale. Si crea un muro di separazione, una separazione dalla comunione con Dio. Perché dal momento in cui il Signore ci ha salvati, noi siamo entrati in comunione con Dio e dobbiamo rimanere sempre di continuo in comunione con Dio. Che cosa è che impedisce che noi rimaniamo in comunione sempre continua con il Signore? È appunto il peccato. Quindi la nostra vita, tutta la nostra vita su questa terra, come si svolgerà? Si svolgerà con una lotta continua contro il peccato. Cioè noi dobbiamo combattere continuamente per non cadere nel peccato, per non trasgredire i comandamenti di Dio. Perché? Perché la natura che abita in noi è una natura peccaminosa che ancora abita nella nostra carne perché il nostro corpo ancora non è stato redento, non è stato liberato dalla conseguenza del peccato. La nostra anima sì, il nostro spirito sì, ma la carne ancora no. Ecco perché in noi c'è questa debolezza. Questa debolezza che sarà liberata da noi soltanto nel momento in cui il giorno che il Signore ritornerà noi risusciteremo dai morti e il nostro corpo sarà sopravvestito di un corpo glorioso, un corpo che non morirà più, non si ammalerà più, non peccherà più, non ci sarà più in quel corpo, non abiterà più quella natura peccaminosa. Solo in quel momento, e naturalmente anche quando la nostra anima sarà in cielo, ecco in quel momento noi non peccheremo più. Ma fino a quel momento, fino a quando noi rimarremo su questa terra, dentro questo corpo, dentro questa tenda, saremo sempre soggetti a peccare, a cadere. E quindi dobbiamo saperlo questo. Perché dobbiamo conoscere le nostre debolezze, no? Dobbiamo conoscerle. E quindi dobbiamo conoscerle, dobbiamo guardarci da esse, e nel caso cadiamo dobbiamo sapere come fare per uscire fuori da questa caduta, per riabilitarci davanti a Dio, per essere riconciliati con Dio. Abbiamo visto che quello che ci separa, perché il peccato è separazione dell'uomo da Dio, dalla comunione con Dio. e questa separazione avviene, questa separazione avviene con la trasgressione appunto dei comandamenti di Dio, della legge che Dio ha stabilito. Non solo c'è questa definizione del peccato, ma ce n'è anche un'altra, che è quella che dà Giacomo, che dà Giacomo, e lo leggiamo al capitolo 4, capitolo 4 di Giacomo al versetto 17. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Sì, perché uno può dire ah, ma io come ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma non c'è scritto chiaramente che c'è un comandamento che non mi permette di fare questo, quindi non ho peccato, perché poi ci sono i contenziosi, i ribelli, che cercano ogni sotterfugio. Ebbene, se non c'è scritto un comandamento in maniera precisa ed è stato trasgredito, ecco che Giacomo dice chissà fare il bene e non lo fa commette peccato. Sì, perché dentro di noi la nostra coscienza ci guida, ci dice cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, molte volte. Anche se non c'è scritto esattamente il comandamento di Dio nella parola, nella sua parola. Però pure noi avvertiamo che una tale cosa non si fa, non si deve fare. E quindi cosa succede? Succede che si commette peccato se la si fa. Perché chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Quindi il bene deve essere fatto, vedete. Non si deve fare il male, ma si deve fare il bene, perché talvolta noi magari pensiamo al peccato solamente dal punto di vista che non dobbiamo fare certe cose. Però qui l'Apostolo Giacomo con le sue parole chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Quindi questo vuole dire che se noi sappiamo che dobbiamo fare certe cose noi commettiamo peccato. Se noi sappiamo che dobbiamo studiare le scritture, noi sappiamo che dobbiamo pregare ogni giorno, noi sappiamo che dobbiamo aiutare i fratelli, dare una parola buona, che dobbiamo annunziare l'Evangelo ai non credenti, che dobbiamo fare tante cose. Noi sappiamo anche questo. E se non lo facciamo commettiamo peccato. Quindi vedete ogni giorno noi o trasgrediamo perché c'è scritto di non fare determinate cose oppure trasgrediamo dall'altra parte che comunque commettiamo peccato che dobbiamo invece fare determinate cose e non le facciamo. Quindi comunque sia, vedete, il peccato purtroppo in qualche maniera riesce sempre a colpirci, riesce sempre a toccare anche i credenti. Quindi dobbiamo essere coscienti di questo, di cosa sia il peccato. Il peccato è la trasgressione, la violazione della legge. Il peccato è se noi sappiamo che dobbiamo fare del bene e non lo facciamo, ecco che commettiamo peccato. Quindi questo peccato cosa fa? Ci fa perdere quella comunione con Dio. Ci fa perdere, si crea quindi una separazione tra noi e Dio, si crea un muro, si crea un ostacolo tra noi e Dio e quindi dobbiamo rimuovere questi ostacoli. Quindi dobbiamo fare di tutto affinché ci riconciliamo con Dio. Questo è il peccato, ma quali sono le conseguenze? Una volta commesso il peccato, quali sono le conseguenze? E qui dobbiamo andare a leggere in Romani, in Romani leggiamo queste parole, al capitolo 6 leggiamo queste parole, capitolo 6, versetto 23, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Vedete, cosa produce? Cosa produce il peccato? il peccato? Il peccato una volta commesso produce la morte. E sì, perché spiritualmente quando uno è in comunione con Dio è spiritualmente vivo, è spiritualmente in comunione con Dio, è spiritualmente diciamo a posto con Dio. Ma se vive nel peccato, se commette il peccato, anche solo commettendo il peccato, si crea questa morte, cioè il salario, quello di cui ci ripaga il peccato è la morte. Cioè la conseguenza naturale del peccato è la morte. È questo che produce dentro l'uomo. Ricordatevi di Adam e Deva quando pensate al peccato e delle sue conseguenze. Ricordiamoci di Adam e Deva perché Adam e Deva erano senza peccato. Quando trasgredirono il comando di Dio che era quello di non mangiare del frutto, dell'albero, della conoscenza del bene e del male, quel giorno che ne mangiarono si adempì la parola. Infatti la parola dell'ordine e la punizione di Dio era quella che nel giorno che ne mangerete per certo morrete. Infatti Adam e Deva quel giorno che ne mangiarono morirono, trasgredirono il comandamento di Dio e spiritualmente morirono. Dentro di loro si produsse la morte. Cosa produce? il peccato dentro. Cosa sente l'uomo dentro di sé quando pecca? I credenti in particolare. E qui il profeta Isaia ne dà una descrizione. Al capitolo 59 di Isaia leggiamo 59 versetto 2 Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto. Vedete quindi qui il profeta dice che le iniquità che l'uomo commette che i credenti che il popolo di Dio commette che i santi possono commettere cosa producono? Si producono una barriera si crea una barriera tra il credente tra il popolo di Dio e il Dio si crea una barriera il Dio nasconde la sua faccia nasconde la sua faccia dal suo popolo che pecca dal credente che pecca il Dio nasconde la sua faccia e quindi perde quella comunione quella comunione con il Signore il credente perde appunto comunione cioè non c'è più quella gioia quella pace ecco cosa 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 viene meno dentro il credente quando pecca non c'è più dentro di lui quella pace quella gioia quella serenità come anche vedete conferma anche il profeta Geremia al capitolo 5 al versetto 25 dice così il profeta il profeta Geremia le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati vi hanno privato del benessere cioè quando noi siamo in comunione profonda profonda con Dio sentiamo dentro di noi una pace una gioia profonda una una qualcosa che dentro di noi ci fa sentire bene noi ci sentiamo bene quando siamo in comunione con Dio ma quando pecchiamo invece dentro di noi smettiamo di sentirci bene ma ci sentiamo male non ci sentiamo più a posto con il Signore dentro di noi entra un'angoscia una tribolazione un timore addirittura delle punizioni di Dio una cioè sentiamo che dentro di noi c'è c'è qualcosa che grava che non va bene davanti davanti al Signore come anche l'Apostolo Paolo lo descrive così una situazione dei Santi che peccano li descrive in questa maniera dobbiamo andare in Romani l'Apostolo Paolo dice così il capitolo 2 di Romani dice così al versetto 9 tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male del giudeo prima e poi del greco ma gloria onore pace a chiunque opera bene vedete quindi quelli che operano bene quelli che non peccano quelli che non vivono nel peccato hanno gloria onore pace da Dio hanno una pace interiore profonda particolare che ti fa sentire in comunione con Dio non ti fa sentire solo ti fa sentire amato da Dio ti fa sentire il volto dell'iddio vivente che risplende su di te quindi che ti guarda in maniera benevola mentre quando si pecca e non si è ancora perdonati di questo peccato ci si sente dentro male ci si sente una tribolazione un'angoscia un'ansietà si comincia a non dormire più perché badate bene se passa il tempo e quel peccato non viene perdonato la gravità i sentimenti negativi dentro di noi crescono sempre di più fino a non farci dormire più la notte quindi è importante individuare queste cose individuare il peccato sapere cosa è il peccato sapere quali sono le sue le conseguenze perché dentro di noi noi dobbiamo avere sempre sempre presente la nostra situazione interiore perché da dentro di noi noi comprendiamo se siamo a posto con Dio oppure no perché se siamo a posto con Dio gloria a Dio continuiamo a servirlo e a continuare in quella via che stiamo percorrendo ma se non siamo a posto se dentro di noi c'è un'angoscia c'è un timore della punizione se non siamo a posto con Dio ci dobbiamo mettere a posto è questo che serve dentro di noi quindi dentro di noi c'è sempre quel campanello di allarme che ci fa conoscere qual è la nostra situazione davanti a Dio non è un uomo esterno a noi che ci può dire se andiamo bene o andiamo male non sono gli altri che ci possono dire se noi andiamo bene o andiamo male ma è dentro di noi che ognuno di noi deve avere quella maturità quella capacità quella conoscenza di esaminare se stesso per poter dire sto camminando come piace al Signore cioè gli altri possono dirci che andiamo bene o andiamo male perché talvolta incontriamo qualcuno che ci dice tu non vai in comunità quindi sei maledetto da Dio non sei da Dio sei falso sei così ma come facciamo noi a sapere che uno che parla in quella maniera dice la verità oppure no ma io quando mi inginocchio davanti a Dio e sento la comunione con Dio gli altri possono dire tutto quello che vogliono ma se Dio mi gradisce e me lo fa sentire gli uomini possono dire tutte le male parole che vogliono a me quello che mi interessa a noi quello che ci deve interessare è la comunione che abbiamo con Dio è la benedizione la pace la gioia che Dio ci dà dentro i nostri cuori dentro le nostre anime è quello che ci interessa non quello che ci dicono gli altri sì ci possono anche dire ah caro fratello stai camminando bene continua così poi magari dentro di noi sentiamo la morte sentiamo l'angoscia la tribolazione perché esteriormente stiamo facendo vedere che stiamo camminando in una certa maniera e dentro di noi invece c'è la morte spirituale che non va bene così non va bene quindi ognuno di noi deve avere quella maturità spirituale quella conoscenza per potersi esaminare del continuo perché non sono gli altri che ti possono dire come stai camminando è solo lo spirito di Dio è solo il Dio che ti può far sentire dentro di te come stai camminando e questo discernere la presenza di Dio dentro di te questo comprendere la comunione cosa sia la presenza di Dio dentro di te la comunione con Dio è questo che dopo ti accompagnerà tutta la vita e ti farà da guida ti dirà di volta in volta come stai camminando perché vedete possiamo imbrogliare le persone possiamo ingannare gli altri ma non possiamo ingannare noi stessi la nostra coscienza non possiamo ingannare il Dio ed è importante questo è importante avere quella capacità di discernere qual è sempre la nostra situazione davanti a Dio perché serve questo perché se io sono a posto gloria a Dio vado avanti così se io non mi sento a posto e vuol dire che mi devo inginocchiare a chiedere perdono a Dio capite quindi discernere chiaramente quale sia la nostra situazione davanti a Dio interiormente è fondamentale è importantissimo perché purtroppo abitando dentro di noi il peccato nella nostra carne ogni tanto cadiamo è così purtroppo è così non ci si può fare a meno e dobbiamo avere conoscenza di tutte queste situazioni di queste cose per trovare poi una soluzione per poter risolvere la questione se noi non discerniamo queste cose non le conosciamo non discerniamo dentro di noi come facciamo poi a cercare una soluzione che ci liberi da questo peso che abbiamo interiormente quindi è importante è importante quindi da quello che interiormente si sente quindi quando sei in comunione con Dio tu ti senti una pace una gioia profonda capite un qualcosa che si muove lo senti lo senti che dentro di te va tutto bene che il Dio ti sta guardando e ti sta benedicendo senti che sei benedetto da Dio lo senti interiormente così come si sente quando la coscienza ci accusa per aver peccato e questo peccato più dura dentro di noi e più la barriera si fa pesante e grande davanti a Dio e poi sarà sempre più difficile da abbattere quindi una volta che dentro di noi riusciamo a discernere che c'è qualcosa che non va dobbiamo agire subito al più presto per evitare che questo muro di separazione con Dio diventi diventi insormontabile capite quindi evitiamo di far passare tanto tempo di far passare del tempo da quando ci sentiamo che non siamo a posto con Dio dobbiamo metterci al più presto subito a posto a posto con Dio naturalmente come diceva l'apostolo l'apostolo Giovanni l'apostolo Giovanni scriveva ai discepoli scriveva i discepoli dicendogli queste cose scriveva così figlioletti miei io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate quindi molti molto molti degli sforzi che noi facciamo gli uni con gli altri hanno lo scopo di esortarci a non peccare questo è chiaro che noi credenti dobbiamo stare lontani dal peccato dobbiamo starci lontani però però sappiamo che purtroppo e anche l'apostolo Giovanni lo sapeva perché dopo dice e se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre cioè Gesù Cristo il giusto ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo quindi Giovanni scriveva affinché i suoi figlioletti quelli che aveva maestrato quelli che comunque aveva conosciuto quelli a cui ha indirizzato l'epistola non pecassero l'obiettivo principale era quello di non peccare fratelli non peccati però se qualcuno ha peccato perché Giovanni lo sapeva che qualcuno avrebbe peccato che il peccato purtroppo abita dentro l'uomo anche dopo da credente qualche volta si cade però se si cade si deve sapere che si deve sapere che Cristo Cristo è la propiziazione per i nostri peccati quindi una volta che si è peccato cosa si deve fare lo dice sempre l'Apostolo Giovanni al versetto capitolo 1 versetto 9 dice così Giovanni se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità vedete quindi considerato che è quasi impossibile che l'uomo non cada non cada periodicamente si cade tutti nel peccato cosa bisogna fare una volta che si cade nel peccato qui Giovanni dice appunto che bisogna confessare le proprie iniquità prima di tutto bisogna confessarle a Dio se si è peccato se io ho fatto un torto a un fratello o un fratello ce l'ha con me o in qualche maniera c'è stato qualcosa che non va con la fratellanza o anche con gente non credenti la prima cosa da fare è risistemarsi con queste persone quindi la confessione a Dio va bene ma talvolta ci può essere necessità che ci sia anche una confessione rivolta all'uomo perché se io ho peccato solo contro Dio che sa diciamo solo Dio ha visto il mio peccato e io lo confesso solo a lui ma se io ho fatto del male al fratello e poi ne ho conoscenza ne vengo a conoscenza è chiaro che devo chiedere perdono anche al fratello cioè mi devo ristabilire devo ristabilire ogni comunione prima di tutto con il fratello perché? perché se noi non perdoniamo come è scritto come è scritto nei Vangeli che Gesù ha detto se noi non perdoniamo ai nostri fratelli che ci chiedono perdono neppure il Padre Nostro Celeste che nei Cieli ci perdonerà i nostri peccati quindi non solo se abbiamo un peccato verso il fratello dobbiamo chiedergli perdono ma è assolutamente necessario se un fratello che ha peccato contro di noi anche se lo facesse 70 volte 7 al giorno e viene per tante volte a chiedere perdono noi siamo obbligati a perdonare cioè è obbligatorio non è che è una cosa che puoi discutere oppure dire di noi no io non ti perdono perché hai peccato contro di me 10 volte se quel fratello viene a te chiederti pecca contro di te 100 volte e ti chiede perdono per 100 volte tu per 100 volte lo devi perdonare è obbligatorio cioè non è una cosa che puoi che puoi metterti lì a discutere a tavolino è obbligatorio quindi è obbligatorio chiedere perdono è obbligatorio perdonare se ti viene chiesto perdono sempre perché perché tutto è collegato alla purificazione dei nostri peccati perché se noi non perdoniamo neanche noi veniamo perdonati da Dio per i nostri peccati che abbiamo commesso per ogni altra trasgressione che commettiamo quindi è bene è bene che sappiamo anche queste cose perché perché così dobbiamo sapere come comportarci in determinate situazioni affinché affinché questa barriera di separazione che si crea tra noi e Dio possa venire meno possa essere abbattuta dal perdono di Dio e dalla purificazione dei nostri peccati col sangue di Gesù viene purificato o viene abbattuto ogni muro di separazione tra noi e Dio e quindi ritorna in noi la gioia la pace il Dio ci siamo riconciliati con Dio e ritorniamo ad essere in comunione con Lui quindi quindi è importante anche sapere queste cose anche anche Salomone nei proverbi afferma scrive che non si devono non si deve coprire assolutamente il peccato guardate bene 28 proverbi 28 versetto 13 dice chi copre le sue trasgressioni non prospererà ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia vedete quindi è molto importante non bisogna fare finta di non aver peccato non bisogna coprire la nostra trasgressione non dobbiamo coprirla neanche la trasgressione degli altri né la nostra né quella degli altri quando uno pecca lo deve solo riconoscere non ci sono altre possibilità chi lo riconosce sarà perdonato da Dio sarà purificato e sarà ristabilito alla comunione con Dio ma chi non lo riconosce chi dice che non ha peccato si indurisce e allora non potrà avere comunione con Dio la tribolazione l'angoscia cresceranno sempre di più in lui fino a togliergli ogni pace ogni serenità non potrà più non potrà più vivere una vita serena e tranquilla perché perché non sarà in comunione con Dio quello che ci fa vivere una vita pacifica e tranquilla è la comunione con Dio ecco perché la presenza di Dio dentro di noi ecco perché la dobbiamo ricercare del continuo e la minaccia a questa comunione è il peccato appunto ecco che dobbiamo sapere anche questo siccome quello che ci fa vivere una vita tranquilla e serena è la comunione con Dio e la minaccia a questa comunione è il peccato quindi dobbiamo combattere dobbiamo conoscere questo nostro nemico e lo dobbiamo combattere quando cadiamo perché il peccato è riuscito a vincerci ecco che dobbiamo sapere come fare ad uscirne fuori ed è confessando i nostri peccati e abbandonandoli confessare e abbandonare il peccato questo dobbiamo fare e la nostra comunione con Dio sarà poi ristabilita perché vedete qui Salomone dice chi copre le sue trasgressioni non prospererà cioè la nostra vita non potrà più andare avanti bene se noi ci mettiamo iniziamo a coprire il nostro peccato a fare finta che non abbiamo peccato a ingannare noi stessi e gli altri che non viviamo nel peccato è come un adulto come un fornicatore che continua a commettere il peccato e fa finta che invece va tutto bene non è vero tu esteriormente agli altri puoi dire che va tutto bene ma dentro di te la tua coscienza ti accusa se tu sei un peccatore un fornicatore un adultero un ladro un ubriacone qualsiasi cosa se tu sei un peccatore se una persona è un peccatore vive in questo peccato sappia quel tale che non potrà avere pace dentro di sé no non c'è pace per gli empi dice lì Dio vivente è vero non c'è pace e siccome Dio non può mentire perché non è un uomo che possa mentire e siccome l'ha detto che non c'è pace per gli empi non c'è pace per il peccatore ci sarà tribolazione e angoscia nel suo cuore dentro di lui e così avviene avviene esattamente così e l'uomo non ci può fare nulla non può assolutamente vivere una vita in pace se vive nel peccato quindi non si deve assolutamente coprire il peccato non lo si deve coprire ma anzi lo si deve riconoscere e abbandonare perché Dio è misericordioso badate bene qui non si sta dicendo che Dio benedice solo quelli che non peccano mai anche perché è impossibile perché tutti noi non so quante volte al giorno falliamo in tante cose quindi non portiamo a compimento non arriviamo a aggiungere non raggiungiamo l'obiettivo questo vuol dire il peccato non raggiungere l'obiettivo abbiamo fallito quindi quindi il Dio diciamo si interrompe una certa relazione tra noi e Dio e di conseguenza di conseguenza dobbiamo trovare il rimedio il rimedio per poter ristabilire ristabilire questa comunione con Dio ma guardate bene ma il Dio è misericordioso qui noi parliamo di queste cose ma alla fine quello che conta di più quello che è la cosa più importante è che Dio è misericordioso cioè Dio è misericordioso verso coloro che si umiliano che pregano confessano il loro peccato vanno a Dio lo implorano gli chiedono misericordia e perdono dei peccati il Dio è così misericordioso è pietoso che ti perdono dei tuoi peccati gli unici peccati che Dio non perdona sono elencati nella scrittura e sono se tu bestemmi contro lo Spirito Santo e se tu commetti il peccato che mena morte se uno rinnega Cristo se bestemmia contro lo Spirito Santo allora questi peccati non saranno rimessi questi sono gli unici peccati che non saranno rimessi come insegnano le sacre scritture ma tutti gli altri non importa di che entità siano stati o siano possono essere perdonati non importa quanti adulteri uno abbia potuto compiere non importa quanti omicidi fornicazioni il sangue di Gesù è più potente capite il peccato a volte è gravoso a volte è forte a volte proprio è terribile certamente ma il sangue di Cristo è ancora più potente di ogni peccato è chiaro che se uno ha ucciso poi la giustizia umana lo prende lo incarcera e gli fa lo punisce lo lascia in carcere per dire per l'ergastolo quella è la giustizia umana che è comunque dovuta a una conseguenza del peccato quella ci può essere ma io sto dicendo sto parlando quando parlo di perdono dei peccati sto parlando come sto parlando del sentimento interiore che un uomo un credente deve avere dentro di sé quando viene perdonato dei suoi peccati capite uno può essere in carcere si converte è già è già condannato all'ergastolo per aver ucciso tante persone il Dio lo perdona lo salva lo purifica da ogni peccato e certo rimane in carcere perché la giustizia umana segue il suo corso che poi le autorità sono costituite da Dio quindi vedete una certa punizione rimane sul peccato commesso ma dentro di sé sente quella pace quella comunione con Dio che gli permette di vivere una vita almeno serena nel luogo dove si trova quindi non è che le conseguenze dei vari peccati possono essere diverse ecco dipende dall'entità dei peccati ci possono essere conseguenze diverse anche se il sangue di Gesù anche se Cristo anche se Dio il Dio Padre è potente da purificare da ogni peccato tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo è quello di rinnegare Cristo che è il peccato che mena morte questi tolti questi due tutto il resto può essere perdonato quindi non c'è un peccato vi dico questo perché molte volte il maligno si insinua quando c'è qualche fratello che pecca soprattutto i fratelli quando commettono un peccato si può insinuare il maligno vista la situazione di debolezza di quel credente si insinua e gli comincia a dire nella sua mente il Dio non ti ama più il Dio non ti gradisce più tu hai peccato tu hai fatto questo hai fatto quest'altro sì è vero il peccato crea una separazione con Dio ma è scritto ed è scritto ma è scritto anche che se tu lo confessi e lo abbandoni e lo riconosci comunque davanti a Dio ti umili ti riconosci di aver peccato e chiedi perdono a Dio e altresì scritto che Dio ti perdona che Dio ti perdona quindi non ci devono non si deve permettere al maligno di entrare nella nostra mente nel nostro cuore di creare il turbamento più di quello che diciamo normalmente subiamo quando cadiamo in qualche cosa nel peccato quindi dobbiamo conoscere anche questo per guardarci anche da queste cose quindi il peccato c'è purtroppo anche se non ci fosse il maligno badate bene anche se non ci fosse il maligno che ci tenta e ci fa abbondare e cerca di farci abbondare nel peccato il peccato ci sarebbe lo stesso questo è dimostrato dal fatto che quando il maligno sarà imprigionato durante il millennio che non ci sarà più quindi l'azione tentatrice del diavolo pure ci saranno quelli che ancora peccheranno quindi vedete il peccato non è legato al maligno ma è legato al corpo al corpo dell'uomo che è debole che la sua natura peccaminosa lo porta a sbagliare il maligno cosa fa? l'opera del maligno qual è? è quella di tentare di farci cadere e tentare di farci abbondare nel peccato in una maniera sto parlando dei credenti adesso in maniera che il credente non si possa più risollevare capite? cioè l'obiettivo del maligno è tentarci farci cadere e poi se cadiamo cercare di non farci risollevare più quindi metterà nelle nostre orecchie delle frasi del tipo Dio non ti ama più è inutile che chiedi perdono tanto il Signore non ti perdonerà più perché questo non corrisponde queste parole queste frasi questi sentimenti non corrispondono a verità non sono biblici non sono perché è vero che il Signore ci può anche punire per certe cose certi peccati che noi commettiamo ma poi il Dio è misericordioso rimane il fatto che Dio è misericordioso quindi se è scritto se Giovanni l'ha detto se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto vedete il Dio non viene meno alla sua parola non viene meno noi veniamo meno noi uomini ma il Dio non viene meno la sua parola perché egli è fedele e giusto e ci rimette i peccati se noi gli confessiamo a lui quindi il maligno può cercare di intrufolarsi quanto vuole ma noi dobbiamo respingere questi attacchi questi attacchi che si svolgono nella nostra mente guardate bene quindi il maligno dove ci attacca? il maligno ci attacca nella mente è l'unico posto dove ci può attaccare con dei pensieri ci suggerire entrano non so come può avvenire ma ciò avviene ci entrano in qualche maniera penetrano nelle nostre orecchie delle frasi delle cose strane che si capisce che vengono dal maligno noi dobbiamo discernere i pensieri che vengono suggeriti dal maligno entrano nella nostra mente no? e vengono elaborati producono una certa cosa questi pensieri allora noi con la parola di Dio sapendo tutte queste cose sapendo conoscendo la parola di Dio quando un pensiero non è conforme alle sacre scritture sappiate che non è da Dio quindi lo dobbiamo cacciare immediatamente dalla nostra mente perché se noi ce lo tratteniamo ce lo tratteniamo quel pensiero malvagio produce uova se coviamo uova di serpente e poi alla fine si schiuderanno si schiuderanno e dopo sarà sempre più difficile quindi l'intervento no? è come è come un intervento in un corpo che è malato più si aspetta e più questa malattia può devastare il corpo se si interviene in maniera pronta e decisa il danno che ne avrà subito il corpo sarà sempre sarà limitato sarà sarà maggiormente limitato quindi considerate anche questo fratelli che il peccato apre le porte al maligno purtroppo quindi il peccato apre le porte agli attacchi del maligno e di conseguenza siamo più deboli se siamo più deboli dobbiamo saperlo almeno dobbiamo sapere come funzionano tutti questi meccanismi affinché li cacciamo indietro quelli queste tentazioni del maligno questi pensieri malvagi li dobbiamo cacciare via la nostra mente come dice Pietro di cingere i fianchi della vostra mente cioè è un ordine è un ordine cingere i nostri fianchi della verità capite anche se abbiamo peccato la verità cosa dice se confessiamo i nostri peccati egli è fedele è giusto da rimetterci perché Gesù Cristo è presso il Padre che intercede per noi egli è il nostro avvocato è la propiziazione per i nostri peccati questo è scritto è scritto questo così come è scritto che se uno commette il peccato che mena morte rinnega Cristo per lui non c'è più remissione è vero ma se non commetti questi peccati se non bestemi contro lo Spirito Santo se non se non rinneghi Cristo qualsiasi cosa tu abbia commesso non aspettare più non dare retta a certe voci che ti sono entrate nella testa vai a Dio in ginocchiati e confessa il tuo peccato e abbandonalo e chiedi misericordia a Dio che Dio è misericordioso Dio è fedele e giusto e ti rimetterà ogni peccato questo è importante ci serve perché tutti i giorni questa battaglia qui fratelli imparatele bene queste cose ricordatevele perché queste cose voi le vivrete tutti i giorni non è che vi sto dicendo cose che avvengono una volta tutta la vita e poi non vi avvengono più avverrà quasi tutti i giorni questa battaglia sarà continua nella vostra mente proprio nella vostra mente se riuscite a vincere le battaglie nella vostra mente voi avrete già un buon risultato nella vostra vita il giorno che perderete nella vostra mente poi vedrete come ne avete danno quindi imparate queste cose imparate a conoscerle a riconoscerle anche affinché affinché riusciate a reagire a resistere al diavolo ed egli fuggirà da voi capite quindi dobbiamo resistergli per mezzo della fede con lo scuro della fede perché il maligno ci lancia i suoi dardi infuocati che cercano di penetrare noi per distruggerci per annientarci completamente ma noi con lo scudo della fede della fede in Dio e questa fede in Dio comprende anche ciò che riguarda la remissione dei peccati di cui oggi stiamo parlando peccato e la remissione dei peccati che ora andiamo a vedere come può avvenire questa remissione dei peccati ebbene dobbiamo andare a leggere in ebrei l'epistola degli ebrei una grande epistola una di quelle epistole veramente che riepiloga un po' tutto ciò che riguarda la salvezza partendo dalle figure del vecchio testamento dalle figure della legge di Mosè leggiamo al capitolo 9 di ebrei 22 e secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non c'è remissione praticamente cosa avvene come anche è scritto poco prima vediamo capitolo 9 sempre di ebrei versetto 11 ma è venuto Cristo sommo sacerdote dei futuri beni egli attraverso il tabernacolo più grande più perfetto non fatto con mano con mano vale a dire non di questa creazione e non mediante il sangue di becchi e di vitelli ma mediante il proprio sangue è entrato una volta per sempre nel santuario avendo acquistata una redenzione eterna perché se il sangue di becchi e di tori è la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo spirito eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'iddio vivente cosa sta dicendo qui sta dicendo che praticamente la legge diceva che il peccato la purità della carne come avveniva come è indicato nella legge che doveva avvenire doveva avvenire attraverso il sacrificio di certi animali e il sommo sacerdote entrava una volta all'anno nel luogo santissimo entrava con un sangue che non era suo ma entrava con un sangue di animali questo per fare l'espiazione del peccato del popolo capite questo ogni anno questo avveniva di continuo ogni anno però avvenendo ogni anno ciò significava che l'espiazione fatta l'anno prima non era perfetta questo è importante questo è importante perché così comprendiamo anche perché la messa cattolica dei cattolici romani è una grande bestemmia contro il Signore mentre c'era bisogno di ripetere i sacrifici per l'espiazione del peccato nella legge con l'avvenuta di Cristo essendo un sacrificio che Cristo ha compiuto perfetto un sacrificio perfetto non c'è più bisogno di ripeterlo e questa è la novità mentre la legge di Mosè che era non portava a compimento non arrivava non portava a compimento tutto tutto ciò che riguardava la volontà di Dio ma diciamo c'era il ricordo dei peccati ogni anno cioè la legge non si compiva non veniva compiuta tutto quello che Dio aveva stabilito perché erano ombre di cose che dovevano avvenire quindi quei sacrifici che gli ebrei che i giudei compivano durante nell'osservanza della legge erano sacrifici che ricordavano che erano ombre del sacrificio che Cristo doveva compiere ripetendoli con gli animali anno dopo anno si riconosceva che quello precedente non era perfetto che c'era bisogno di ripeterlo così fanno i cattolici romani quando fanno la messa quando loro fanno una messa dicono che quella messa lì si ripete il sacrificio di Cristo quindi la messa cattolica è una ripetizione del sacrificio di Cristo secondo la teologia dei cattolici romani un credente che partecipa a quella messa partecipa alla ripetizione accetta e partecipa quindi si mostra favorevole a quel tipo di ripetizione di sacrificio di Cristo ecco perché noi vi diciamo ma non c'entrate oltre che essere un luogo di idoli e di demoni un ricettacolo di demoni la chiesa cattolica oltre che pregare Maria e benedire nel nome di Maria eccetera non fanno fanno anche questa bestemmia diciamo dicono bestemmiano pure il nostro Signore Gesù Cristo con la messa perché dicono che è la ripetizione del sacrificio di Cristo noi credenti assolutamente non dobbiamo partecipare in modo assoluto a queste messe cattoliche non importa se ci sono morti di mezzo matrimoni comunioni qualsiasi cosa sia noi per non bestemmiare il nome di Gesù Cristo non dobbiamo assolutamente entrare in quelle basiliche cattoliche quando fanno la loro messa se uno entra a guardare culturalmente quei quadri non è che sia una benedizione entrare lì però non è che adesso uno che entra lì per vedere un quadro che ne so per vedere una basilica antica non è che adesso sta bestemmiando Dio però se entra durante la messa è lì c'è il rischio che stai bestemmiando Dio quindi lascia stare non entrare non partecipare a questi culti non importa chi è morto non importa cosa è successo non importa di che cosa si tratta la cosa più importante è che non si deve bestemmiare il nome di Gesù Cristo questo è importante questo è fondamentale quindi il sacrificio devi sapere che il sacrificio di Cristo è perfetto non può essere assolutamente ripetuto e siccome il perdono dei peccati può avvenire solamente attraverso lo spargimento di sangue ecco che l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo è venuto sulla terra ha sacrificato se stesso e ha purificato da ogni peccato quindi chi guarda ancora quella croce oggi chi pecca e guarda ancora quella croce e riconosce confesse i suoi peccati e chiede perdono quel sangue che è stato sparso duemila anni fa circa è ancora così potente ed efficace da purificare ancora da ogni peccato perché quel sacrificio era perfetto non ce n'era bisogno di fare altri non ce n'è bisogno di farne altri quindi per quel sacrificio quindi quando noi pecchiamo siccome Gesù ha sparso il suo sangue per come sacrificio per il peccato per espiare il peccato perché qui dice che il sangue di Cristo ci purifica dalle nostre coscienze da ogni peccato quindi è perfetto essendo perfetto il sacrificio di Cristo il sangue che è stato sparso è sufficiente da perdonare i peccati di tutto il mondo di tutto potenzialmente di tutti gli uomini cioè non è che qualcuno può rimanere fuori cioè non c'ha limiti questo vuole dire quando dice che Gesù il sangue di Gesù è potente da purificare i peccati di tutto il mondo vuol dire questo che potenzialmente il sangue può perdonare e purificare i peccati di tutti però noi sappiamo che saranno perdonati e purificati i peccati solo di quelli che Dio ha preordinato a vita eterna secondo quanto lui ha scritto nel libro della vita quei nomi che sono stati scritti nel libro della vita saranno purificati dai peccati quelli che non sono stati scritti fin dalla fondazione del mondo i peccati non gli vengono perdonati perché sono dei vasi d'ira dei vasi d'ira destinati a perdizione quindi che sono stati creati per andare in perdizione mentre i vasi di gloria i vasi creati per la gloria di Dio quelli invece il sangue di Cristo li purifica da ogni peccato quindi vedete il sangue di Cristo è potente il sangue di Cristo è glorioso e lo dice anche Gesù stesso quando ha istituito la Santa Cena ha detto queste parole Gesù allora Matteo 26 versetto 26 dal versetto 26 or mentre mangiavano Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e dandolo ai suoi discepoli disse prendete mangiate questo è il mio corno poi preso un calice e rese grazie lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati vedete quello che purifica i peccati è il sangue di Gesù voi dovete memorizzare bene questo il peccato può essere siccome senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato per noi credenti oggi per tutti il peccato può essere perdonato solo ed esclusivamente attraverso il sangue di Gesù solo per quella fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e in quel sacrificio della croce è stato sparso quel sangue che purifica da ogni peccato quindi il sangue di Cristo che purifica da ogni peccato non è assolutamente l'acqua come dicono come dicono gli antitrinitariani e dopo introduciamo anche questo discorso anche l'Apostolo Giovanni adesso torniamo all'Apostolo Giovanni dice che il peccato può essere rimesso esclusivamente dal sangue di Gesù quindi è il sangue di Gesù solo il sangue di Gesù la fede in quel sacrificio compiuto da Cristo sulla croce nel quale ha sparso il suo sangue ed è solo quel sangue che è stato sparso che può purificare dai peccati solo il sangue di Gesù perché è stabilito che è il sangue che sia il sangue che purifica da ogni peccato ed essendo il sacrificio di Cristo un sacrificio perfetto perché Gesù ha vissuto su questa terra con una carne simile alla nostra ha vissuto su questa terra ma non ha mai peccato quindi Gesù era perfetto Gesù mentre negli animali c'era sempre qualche difetto anche se non era visibile all'uomo però gli animali sono imperfetti ebbene Gesù è stato il sacrificio perfetto che Dio si è procurato per poter a noi per poter purificare i peccati di tutti quelli che di tutto il mondo per poter purificare i peccati di quelli che avrebbero creduto in lui quindi Giovanni dice queste parole prima Giovanni capitolo 1 al versetto 7 leggiamo ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato vedete anche Giovanni dice che il sangue di Gesù che purifica da ogni peccato io voglio battere su questo appunto per farvi capire che solo il sangue di Gesù la purificazione dei peccati e la rigenerazione inizialmente può avvenire solamente ed esclusivamente attraverso la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e quella fede in quel sacrificio che di quale quel sacrificio che nel quale in quella croce è stato sparso il sangue quel sangue che è stato sparso praticamente purifica da tutti i peccati coloro che hanno la fede in Cristo coloro che credono che quel sacrificio sia stato compiuto per la purificazione dei peccati questa fede viene dallo Spirito Santo naturalmente inizialmente noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati eravamo morti che cos'è che ci ha rigenerato che cos'è che ci ha dato vita spirituale è stata l'opera dello Spirito Santo è stata l'opera dello Spirito Santo il quale entrando dentro di noi ha messo dentro di noi quella fede necessaria per credere nel sacrificio di Cristo compiuto nella croce per credere che Gesù ha sparso il suo sangue e quel sangue ci ha purificato da ogni peccato quindi la nostra coscienza dal momento in cui siamo stati rigenerati spiritualmente la nostra coscienza è stata purificata dal sangue da quella fede che abbiamo avuto cioè per mezzo della fede in quel sacrificio che Cristo ha compiuto quindi quel sangue che è stato sparso ci ha purificato la nostra coscienza da ogni peccato quindi non è l'acqua come come dicono taluni ma è solo il sangue di Cristo la fede che noi abbiamo nel sangue di Cristo perché quel sangue è stato sparso per la purificazione dei peccati l'acqua battesimale diciamo non purifica non purifica da nessun peccato perché ci sono quelli che ritengono sia i cattolici ma anche in ambito evangelico dobbiamo dirlo ritengono che nel battesimo ci sia una sorta di purificazione ma non è assolutamente vero perché il battesimo in acqua è semplicemente la testimonianza della purificazione già avvenuta capite della rigenerazione già avvenuta questa rigenerazione è completa e la purificazione dei peccati è già avvenuta e il battesimo in acqua è la testimonianza è chiaro che è chiaro che bisogna farsi battezzare perché dobbiamo testimoniare bisogna testimoniare ai fratelli al mondo intero che noi siamo nati di nuovo e i peccati sono stati purificati quindi questa testimonianza bisogna renderla quindi il battesimo bisogna obbedire a questo comandamento bisogna farsi battezzare in acqua però il battesimo in acqua non aggiunge nulla alla nuova nascita capite è soltanto una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio siccome quando si è nati di nuovo l'uomo vecchio è morto durante il battesimo viene seppellito quindi seppellire le cose vecchie l'uomo vecchio cioè tutta la nostra vecchia vita viene seppellita si testimonia che noi abbiamo rigettato via è una testimonianza quindi che noi gettiamo via tutto il vecchio per dare spazio soltanto esclusivamente a quello nuovo alla nuova vita che Dio ci ha dato in Cristo Gesù ma le acque battesimali non possono in alcuna maniera purificare da nessun peccato perché la scrittura non lo insegna adesso andiamo appunto a vedere a vedere questo ad esempio leggiamo leggiamo in Giovanni dove parla della nuova nascita dove Gesù parla della nuova nascita a Nicodemo capitolo 3 del Vangelo di Giovanni perché questo passaggio viene preso da Taluni per far intendere che diciamo la rigenerazione deve avvenire anche attraverso il battesimo in acqua ma ciò non è assolutamente possibile adesso leggiamo capitolo 3 versetto 5 Gesù rispose in verità in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio la nascita la rigenerazione dello spirito santo come dice sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 è lo spirito santo che opera nel credente nell'uomo per fargli credere nel sacrificio di Cristo lo compunge prima lo fa sentire peccatore bisognoso di essere salvato e poi gli fa credere gli fa credere nel sacrificio che Cristo ha compiuto per poter ottenere la remissione dei peccati attraverso mediante il sangue che è stato sparso da Cristo Gesù ma a questa rigenerazione spirituale partecipa anche l'acqua taluni erroneamente ritengono che quest'acqua sia l'acqua battesimale ma non è così perché quell'acqua di cui dice Giovanni di cui Gesù cita a Nicodemo e quell'acqua lì rappresenta la parola di Dio e questo lo leggiamo dobbiamo andare a leggere in Efesini leggiamo in Efesini al capitolo 5 dal versetto 25 leggiamo Mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile vedete qui si non è l'unico passo anche nei profeti qui si paragona l'acqua cioè l'acqua è un paragone è una figura della parola di Dio infatti infatti come avviene di solito la rigenerazione che si viene viene annunziato l'Evangelo vedete la parola e lo Spirito Santo porta questa parola dentro il cuore di quella persona vedete quindi che cosa agisce per una rigenerazione spirituale nell'uomo agiscono lo Spirito Santo unitamente insieme alla parola di Dio quindi insieme operano la parola di Dio è lo Spirito Santo per portare rigenerazione spirituale in una persona quindi quell'acqua lì non vuol dire quell'acqua che abbiamo visto in Giovanni 3 versetto 5 che non nasce d'acqua e di spirito quell'acqua lì non è riferita all'acqua battesimale ma è riferita si riferisce alla parola di Dio che insieme allo Spirito rigenerano la persona un altro passo che viene interpretato male è Atti 2 Atti 2 andiamo a leggere Atti 2 Atti 2 dove Pietro dopo aver parlato a tutti quei giudei religiosi che erano presenti il giorno della Pentecoste a Gerusalemme leggiamo 2.37 dopo che i loro cuori furono compunti ecco che cosa cosa dice Luca Atti 2 37 or essi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli fratelli che dobbiamo fare? e Pietro a loro ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo siccome Pietro dice queste parole ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo dice per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo qualcuno vuole accostare vedete dice che per la remissione dei peccati si ottiene attraverso il battesimo perché Pietro è esorto a battezzarsi sì è vero che Pietro qui dice queste parole ma la remissione dei peccati può avvenire solo ed esclusivamente mediante la fede nel sacrificio che Cristo ha compiuto quindi per il ravvedimento ed aver creduto in Cristo che avviene la purificazione dei peccati non avviene assolutamente attraverso l'acqua battesimale e siccome queste parole le ha dette Pietro noi andiamo a leggere cosa dice cioè quelle cose che vi sto dicendo io le dice anche Pietro l'Apostolo Pietro quindi andiamo a leggere in prima Pietro capitolo 3 versetto 21 aveva parlato prima che Noè otto persone furono salvate dall'acqua e poi dice alla qual figura vedete alla qual figura corrisponde il battesimo non il nettamento delle sozzure della carne ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio qui Pietro dice chiaramente che il battesimo in acqua stiamo parlando del battesimo in acqua non è il nettamento non avviene attraverso il battesimo in acqua il nettamento delle sozzure della carne per le sozzure della carne qui intende il peccato il peccato che contamina la carne e lo spirito ora Pietro in quel messaggio quindi che ha detto che ha dato a quei giudei che lo ascoltarono furono compunti nel cuore quando disse quelle parole non voleva assolutamente intendere far capire far comprendere a chi ascoltava che era il battesimo in acqua che purificava dei peccati e ciò non può essere neanche perché quando Gesù quando quando Gesù disse al ladrone sulla croce oggi stesso tu sarai con me in paradiso quel ladrone sulla croce ha avuto quindi per andare in paradiso i suoi peccati gli sono stati perdonati purificati gli sono stati rimessi e ciò non è avvenuto attraverso il battesimo in acqua perché non è stato battezzato in acqua il ladrone sulla croce di conseguenza vedete ancora confermato che non è l'acqua battesimale che può mai purificare dai peccati non è l'acqua 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 può pulire altre sporcizie del corpo ma non la coscienza le coscienze nostre le coscienze degli uomini possono essere purificate esclusivamente dal sangue di Cristo Gesù questo è fondamentale questo dovete non dovete mai dimenticare perché incontrerete qualcuno che vi parlerà in questa maniera vi dirà che per essere perdonati e rimessi peccati c'è bisogno del battesimo in acqua anzi ci sono quelli che ogni volta che peccano praticamente si fanno ribattezzare credendo in una tale cosa non mi ricordo quale setta sia però c'è qualcuno qualche setta che quando peccano i loro membri praticamente per purificare li ribattezzano in acqua credendo che nell'acqua ci sia un potere purificante quando non è assolutamente così che l'unica cosa che purifica le coscienze dal peccato è il sangue di Cristo Gesù noi possiamo ottenere la remissione dei peccati solo ed esclusivamente attraverso per mezzo della fede in quel sacrificio che Cristo ha compiuto quindi guardate bene guardatevi quindi guardatevi da quelli che perché tra questi ci sono gli antitrinitariani che non solo errano per quanto riguarda la Trinità ma errano anche per quanto riguarda la dottrina della salvezza quindi bisogna guardarsi attentamente diciamo da questi e tenerli ben lontani da noi lontani perché piano piano questi corrodono e fanno danno all'interno in mezzo alle chiese dei santi ora volevo concludere il mio discorso quindi una volta determinato cos'è il peccato le sue conseguenze e che bisogna confessarla abbandonare i peccati e che la remissione dei peccati può avvenire solo ed esclusivamente attraverso la fede nel sacrificio di Cristo e non anche nell'acqua attraverso l'acqua battesimale una volta stabilito questo volevo parlarvi appunto di prevenire il peccato cioè come fare per non peccare o per essere preservati dalle grandi trasgressione cosa ci dicono le scritture come dobbiamo noi cercare di resistere al peccato e di non cadere in tentazione ebbene iniziamo appunto con un salmo voi sapete che i salmi che i salmi sono anche preghiere quindi ora quello che noi leggiamo voi lo fate vostro e lo domanderete in preghiera ogni volta che voi vi inginocchiate per pregare ricordatevi di chiedere anche queste cose perché è importante che noi non solo sappiamo come agire come operare dopo che abbiamo peccato ma è anche molto importante molto più importante cercare di non peccare quindi il nostro sforzo lo sforzo principale che noi dobbiamo fare è quello di non peccare per non peccare noi dobbiamo fare queste cose che adesso leggiamo e sta scritto al salmo 19 al versetto 13 stanno scritte queste parole trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su me allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni quindi questa è una preghiera oltre che un cantico è anche una preghiera i salmi sono anche preghiere innalzate a Dio e qui Davide innalza questa richiesta particolare a Dio trattieni il tuo servitore dai peccati volontari quindi noi quando preghiamo dobbiamo dobbiamo pregare Dio e dire signore trattienici dal peccare trattienici dai peccati volontari guardaci dai peccati dalle grandi trasgressioni fa che non possiamo commettere il peccato guardaci tu perché noi siamo carne e polvere non riusciamo a governare il peccato con le nostre sole forze ma abbiamo bisogno quindi dell'intervento di Dio quindi nelle nostre preghiere dobbiamo ricordarci del continuo che Dio ci deve guardare affinché ci trattenga dal peccato ma non solo Davide ma anche ma anche lo stesso Gesù quando insegnava ai suoi discepoli a pregare e quindi dobbiamo andare dobbiamo andare nella preghiera del Padre Nostro vendiamo dal Vangelo di Matteo dal Vangelo di Matteo leggiamo queste parole al capitolo 6 dal versetto 9 leggiamo tutta la preghiera del Padre Nostro che non ci fa male anzi ci fa bene ricordare tutte queste cose voi dunque pregate così Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno vedete l'ultimo passaggio all'ultimo versetto che il 13 613 di Matteo dice e questo fa parte della preghiera del Padre Nostro una delle preghiere che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli che dovevano imparare a pregare in quella maniera tra le cose che Gesù ha ricordato che dobbiamo chiedere in preghiera c'è appunto questo non ci esporre alla tentazione 1 liberaci dal maligno 2 vedete questi due punti non ci esporre alla tentazione questo cosa vuol dire vuol dire che noi potremmo essere esposti continuamente alla tentazione perché il maligno ci tenta il maligno il suo scopo il suo obiettivo è quello di venire a noi di tentarci e farci cadere come anche ha tentato Gesù Cristo ma non ha peccato il Signore noi invece che siamo carne e polvere capite se siamo tentati potremo anche cadere quindi cosa chiediamo noi ogni giorno dobbiamo chiedere che Dio ci trattenga dal peccare che non ci esponga alla tentazione del maligno che ci guardi dal maligno che ci liberi dal maligno queste cose fratelli segnatevele segnatevele perché le dovete domandare del continuo in preghiera non deve esserci una preghiera in cui vi inginocchiate e non vi ricordiate queste cose perché vi faranno solo del bene e lo dovete chiedere non perché ve lo dico io lo dovete chiedere perché ne sentite la necessità perché sta scritto nella parola perché sono parole gradite a Dio da chiedere in preghiera e lo dovete fare con tutto il cuore con pienezza di convinzione non perché vi sto esortando io a fare perché lo dovete fare perché davanti a Dio è cosa è cosa gradita a Dio capite quindi che bisogna chiedere tutte queste cose al Signore affinché ci preservi dal maligno affinché noi siamo diciamo in un certo qual modo riduciamo ecco al minimo il nostro peccato purtroppo è impossibile non commettere qualcosa nella nostra vita spirituale nella nostra carriera in questa terra però però possiamo cercare in tutte le maniere combattendo contro il peccato di ridurlo al minimo al minimo possibile e poi stiamo attenti a non commettere grandi trasgressioni perché se si commettono grandi trasgressioni ci sarà anche una grande conseguenza capite piccolo peccato piccola conseguenza grande peccato grande conseguenza e i danni possono poi rimanere facciamo un esempio e voi sapete Dio può perdonare l'adultereo della fornicazione ma ammettiamo che uno è sposato un pastore sposato ha moglie figli se ne va con un'altra donna bene un'altra donna della chiesa stessa e poi questa donna rimane incinta e vabbè il pastore può essere perdonato sicuramente Dio lo può perdonare faccio l'esempio del pastore può essere un altro membro anche della comunità può essere perdonato certamente se chiede perdono a Dio ma la conseguenza rimane vedete lo scandalo poi rimarrà perché che fai abortisci una volta che rimane incinta quella donna che fa abortisce no ti macchi anche dell'omicidio no allora rimarrà vedete quindi la conseguenza del peccato rimane quindi quel pastore si sarà rovinato completamente non potrà più più pasturare non potrà più cioè si sarà riempito di guai a parte che possono succedere anche problemi in famiglia può essere cacciato via della moglie dei figli cioè ci possono essere conseguenze vedete grande peccato grande conseguenze è chiaro che piccoli peccati piccole conseguenze se uno dice una parola fuori posto poi dice signore perdonami no ma a me mi capita no per dire quando sono nel traffico a volte mi fanno arrabbiare perché mi spavento perché un bicicletta mi taglia la strada stavo per prenderlo inchiodo allungo la mano e dico ma guarda quello cosa sta facendo cioè con un senso di ostilità è chiaro e quello è peccato non è che sto dice ho fatto bene ho fatto male e subito sento dentro di me che non è cosa subito chiedo perdono al signore appena possibile perché perché non va bene però capite la conseguenza sto facendo un esempio è minima nel senso il turbamento c'è però non c'è una grossa conseguenza se uno chiede poi perdona a Dio mentre se ha commesso adulterio quella può rimanere incinta e dopo il peccato rimane sempre visibile a tutti capito si parlerà sempre di quella cosa non è una cosa che si cancella così facilmente quindi bisogna stare attenti ecco perché bisogna pregare stare attenti di non macchiarsi di grandi trasgressioni altrimenti anche se Dio è misericordioso però le conseguenze possono rimanere quindi dobbiamo pregare del continuo Signore che ci liberi dal maligno dalle tentazioni che ci guardi dalle grandi trasgressioni ma sempre rimanendo nel Vangelo di Matteo concludiamo con l'esortazione diretta che perché perché è importante pregare e lo spiega lo stesso Gesù lo stesso Gesù quando era la notte che fu tradito quando fu arrestato Gesù dice queste parole andò a pregare insieme insieme ad alcuni dei suoi dei suoi discepoli e a questi discepoli gli ha detto di pregare con lui e poi a un certo punto gli dice queste parole quando li andò a trovare 26 abbiamo detto 40 poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione ben è lo spirito pronto ma la carne è debole vedete cosa cosa perché li ha esortati a pregare a vegliare Gesù perché lo spirito è pronto è vero ma la carne è debole siccome dentro di noi c'è una natura peccaminosa e la carne è debole ecco che Gesù li ha esortati a pregare e a vegliare a pregare con convinzione con forza perché affinché non cadessero in tentazione perché la carne è debole lo spirito è pronto ma la carne essendo debole ecco che dobbiamo perseverare nella preghiera cosa succede cosa può succedere succede che se uno non prega non persevera nella preghiera ecco cosa succede succede che essendo debole la carne si macchierà prima o poi comincerà con dei piccoli peccati ma la macchia comincia ad allargarsi e dopo si arriverà a commettere anche grandi trasgressioni capite perché perché la carne è debole Gesù l'ha detto essendo debole la carne noi dobbiamo dobbiamo reagire a questa nostra debolezza attraverso la preghiera noi restingiamo il peccato attraverso la preghiera quindi fratelli vedete quanto è importante sia la conoscenza conoscere i sentimenti dentro di noi conoscere quello che dicono le scritture e poi anche vedete la preghiera perseverare nella preghiera perché tutte queste cose messe insieme ci fanno un gran bene perché noi siamo lanciati verso la vita eterna tutte le nostre sofferenze tutti i nostri sacrifici ogni volta che ci inginocchiamo fratelli noi ci stiamo appropriando di un pezzo della vita eterna ci stiamo non dico che ci stiamo guadagnando perché è una parola grossa anche se in un punto delle scritture c'è scritto ma non è che ce lo stiamo guadagnando però certamente una fetta ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando sempre di più alla vita eterna perché alla vita eterna ci si può sia allontanare che avvicinare allora perseverando nella santificazione nello studiare le scritture nella preghiera nel fare le opere buone non facciamo altri che avvicinarci alla vita eterna se noi smettiamo completamente di fare il bene allora ci allontaniamo dalla vita eterna quindi fratelli cosa dobbiamo fare cosa volete fare volete allontanarvi dalla vita eterna o volete avvicinarvi e quanti anni potremmo vivere qui è il peccato che soddisfazione mai ci potrebbe dare il peccato può forse darci diciamo soddisfazioni maggiori di quelle che ci può dare il Dio nella vita eterna ma no fratelli assolutamente a parte che dopo ci sarà anche un tormento eterno a cui far fronte e non sarà semplice ma il peccato che cosa ci può dare ci può dare una soddisfazione temporanea momentanea e dopo ci lascerà un taglio terribile nell'anima nostra capite il peccato ecco perché è meglio non cadere in tentazione è giovevole non cadere in tentazione ma reagire resistere il peccato ti sta spiando alla porta ma tu lo devi dominare queste sono state le parole che Dio ha detto a Caino e dobbiamo farle nostre perché è un'esortazione che Dio ci rivolge del continuo anche a noi il peccato ti sta spiando alla porta ma tu lo devi dominare tu ci riesci a dominare il peccato da solo no e allora cosa fai chiedi aiuto a Dio ti inginocchi davanti a Dio e dici signora aiutami che il peccato è sempre in questa porta alla porta del nostro cuore alla porta della nostra coscienza della nostra anima che ci vuole triturare distruggere annientare far cadere a terra ma noi non glielo dobbiamo permettere non glielo dobbiamo permettere dobbiamo assolutamente resistere reagire secondo quanto ci hanno insegnato le scritture quindi attraverso la preghiera noi ci opponiamo diciamo opponiamo quella resistenza al diavolo e anche alla nostra stessa carica però se c'è qualcuno che ha peccato sappia che c'è nel cielo un avvocato Gesù Cristo è presso il Padre ed è il nostro avvocato che se noi abbiamo sbagliato abbiamo un peccato possiamo con piena fiducia rivolgerci a Lui affinché ci rimetta ogni peccato e questa era l'esortazione fratelli e sorelle che volevo darvi in questa serata a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén